Il leader della Lega Matteo Salvini replica a Beppe Grillo, che ha proposto ai partiti di maggioranza e opposizione di stilare un nuovo «patto», mettendo l'interesse del paese al primo posto. Vedo che Grillo dice «tutti dentro». «Siamo passati dalla rivoluzione a 5 stelle al governo Conte Mastella. Io con certa gente non posso avere niente a che fare. La strada verso la crisi di governo appare ormai tracciata. In attesa delle comunicazioni di Italia viva che nel pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa indetta da Matteo Renzi, dirà se le ministre Bellanova e Bonetti si dimetteranno. Dopo l'astensione sul voto di ieri in Consiglio dei Ministri sul Recovery Plan. Il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo fa la sua proposta. Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il paese colmiamo quel vuoto e la disaffezione che la politica ha lasciato in questi anni nell'animo degli italiani. Si tratta di un passaggio di una lettera aperta condivisa su Facebook dal cofondatore del Movimento 5 Stelle. Indirizzata ai partiti di maggioranza e opposizione. E firmata dal deputato M5 San Giorgio Trizzino. Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere. In uno dei momenti più bui della sua storia. Il paese. Nessuno cerchi scusi o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro. L'interesse dell'Italia. In vista dei prossimi mesi che, come ha sottolineato oggi il Ministro della Salute Speranza nel corso delle comunicazioni alla Camera sul nuovo DPCM anti-Covid, saranno difficilissimi. Non può che essere messo al primo posto. Successivamente Grillo aggiunge un post scriptum. Precisando che alla guida del nuovo esecutivo dovrà esserci comunque, l'avvocato del popolo. È sottinteso che il governo è di conte. Grazie. Grazie.